bell day nella festività pagana che cade tra il 31 e il primo maggio nell'emisfero nord ed è il momento in cui i nostri antenati celebravano l'amore in tutte le sue forme l'amore tra le coppie l'amore della comunità l'amore per la terra e per il prossimo raccolto a venire era il momento in cui tutti si riunivano in comunità in amore per celebrare la vita stessa e anche noi festeggeremo belte in lunedì 2 maggio alle ore 19 e 30 nel nostro spazio cerimoniale virtuale la cerimonia sarà completamente gratuita e accessibile a tutti coloro che sentono il bisogno di riunirsi in cerchio insieme trovi il link nell'info box per effettuare l'iscrizione gratuita all'evento insieme a me la sacerdotessa anna travel in priestess la registrazione sarà poi disponibile da riguardare sul mio gruppo facebook attorno al fuso della strega quindi sei più che benvenuto ad iscriverti al gruppo facebook per riguardare anche le vecchie cerimonie celebrate insieme la cerimonia sarà completamente gratuita ma se desideri offrirci un caffè trovi i nostri contatti in descrizione e noi ci vediamo lunedì 2 maggio alle ore 19 e 30 italiane per festeggiare belte in nel nostro spazio cerimoniale virtuale ti aspettiamo di riposo a 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 Grazie a tutti.